Noi crediamo che il 271, quello informativo che rilanciamo anche oggi con questa campagna di tutte le aziende della Toscana Centro, quindi AER, Quadrifoglio, Bibliambiente, con quella che è una campagna affissiva, informativa che faremo in tutto il paese, deve essere aiutato da altri due tipologie di intervento. Una dell'amministrazione nella conversione a sistemi più moderni, porta a porta di quella che è la raccolta e gestione dei rifiuti che dovrebbe, secondo le nostre valutazioni, anche abbattere nel futuro quelli che sono i costi di gestione, quindi le tariffe e anche le bollette che arrivano a casa. L'altro è quello, logicamente, dell'abitudine da parte dei cittadini. Ogni cittadino, ognuno di noi deve con piccoli sforzi abituarsi a differenziare maggiormente i propri rifiuti. È un impegno non solo di civiltà, è un impegno solamente di abitudini. Quando viene fatto questo, ed è dimostrato, logicamente, su grande parte della comunità dei figli di mandaglio, i rifiuti indifferenziati vengono quasi totalmente abbattuti e la qualità della vita migliora sicuramente.